Il freestyle è la disciplina del hip hop dove due contendenti rappano su una base improvvisando rime a tempo. Molti fanno risalire il freestyle agli immigrati giamaicani negli Stati Uniti che vendendo dischi decantavano improvvisando le qualità dei loro vinili. A noi italiani fa venire in mente le sfide in ottava rima, ormai estinte, fatte conoscere però al grande pubblico da Roberto Benigni. Il freestyle rappresenta una vera e propria battaglia a colpi di rime, dove in molti casi non si risparmiano offese anche pesanti. Perde chi resta secco di parole e ne riesce a controbattere alle provocazioni. Per farci un'idea della cosa siamo andati a curiosare allo spazio baluardo di Quartogiaro, dove una manciata di appassionati del freestyle si sono ritrovati domenica scorsa. Bella raga, oggi qua spazio baluardo, un macello bestiale. Con me oggi qua live, CS clan, gioventù bruciata, menti craste, prestazioni particolari, visione mistica e PNP. Merda spessa raga, rap underground. Siamo venuti qua per fare un po' di degenero, un po' di freestyle che spacca. E' una roba che comunque nasce da dentro, con un casino di voglia di fare rap, di confrontarsi con il livello della gente. Come me, che gli piace fare sta roba e nient'altro. Divertimento e passione. Stile libero, ascolto la base e poi te lo faccio. E' freestyle, Quartogiaro, mica un quartiere che marcio. Adesso già lo sai che sto un po' più tranquillo, tu lo sai com'è che vai giù come un birillo. Ti disattivo, zio Fabio, uno squivo, sono credito che sono appena appena primo. Ma quale birillo, già lo sai, già lo sai che con sto filo puoi mi scimmio, già lo sai che scappi. Io sono Kenny, il guerriero, tu sei Kenny, il ragazzo di Barbie. E io, già lo sai, non faccio più cattivo. Tra te la fila c'è una differenza, la fila c'è almeno un lato positivo. Milano è pieno di locali, quello sì, però sono sempre poche le serate. Sempre la solita gente gira, quindi è anche difficile fare concerti o live del genere. Solo roba spessa qua, raga. Solo roba spessa.